Weeeh non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE DAIE Weeeh bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono XIUDER e ragazzi patch notes 10.20 con una novità pazzesca Ma che dico più di una novità ragazzi La prima è la collaborazione di Fortnite X Mayhem con il pacchetto PSYCHO Credo che sia relativa a Borderland qualcuno mi dia un aiuto perché probabilmente non lo è Io mi sto sbagliando ma ragazzi nuovo pacchetto PSYCHO Ed insieme a questa immagine voglio farvi vedere il trailer ufficiale della nuova collaborazione Guardate che storia Anzi non l'ho mai visto neanche io Ce lo guardiamo insieme Alzo il volume e si va No questa è quella del Questo è il trailer del putrido No cosa ci mettono al putrido Cosa? Sto vincendo tutto con le mie sole forze Aspetta 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 Cioè mi stai dicendo che questo è un mini boss che si può incontrare a Moisty Meier No devo leggere la patch notes ragazzi assurda questa cosa ragazzi assurda ma andiamo andiamo a vederla proprio nel dettaglio la pace ragazzi perché state scherzando il caos arriva su Fortnite ci dicono rimettiamo intanto il nostro la nostra immagine che vi avevo fatto vedere prima che era veramente pazzesca Salve viandante gli abitanti di Pandora sono Viaggia per il mondo con claptrap sulle spalle penso che si intenda ovviamente questo tizio con una monoruota Tra l'altro ragazzi la zona fenditura di Pandora è appena apparsa appunto sulla mappa portando con sé l'inconfondibile aspetto del pianeta ed un piacevole bonus Trascorri un tempo sufficiente senza subire danno e il tuo scudo si rigenererà Ecco alcune sorprese che scoprirai ragazzi mentre semini il caos nella città di Pandora Ci sono anche i nuovi prefabbricati per creare la tua Pandora con la modalità creativa di Fortnite Cambia l'aspetto delle tue location con il nuovo filtro per la telecamera e condividi i tuoi capolavori con la stag Fortnite X Mayhem Pubblica su Instagram e Twitter e Reddit e dentro il 6 settembre potresti finire in evidenza nel quartiere Abbiamo tra l'altro tutto il pacchetto del Fortnite X Mayhem Vabbè sopra di me c'è la maschera che deve essere uno spray Il coniglio, due nuove coperture per le armi e uno standardo ragazzi Insomma in questa patch è tanta tanta roba Non vengono menzionate per adesso cose relative alle armi o relative alla nuova bolla scudo Quindi dovesse esserci un altro annuncio ufficiale Lo saprete sicuramente anche voi Per adesso io vi ringrazio per avere guardato questo video Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi siamo in live con tutti gli X Ciao Ciao Grazie per la visione!